Musica Giovedì 21 luglio 2016 Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori Siamo in diretta come tutte le mattine dal lunedì al sabato sul canale 17 di FanoTV per leggere i giornali che tra poco cominceremo a sfogliare velocemente con i titoli con il nostro touchscreen Allora subito il santo di oggi vediamolo con l'aiuto della grafica Allora oggi la chiesa cattolica ricorda San Lorenzo da Brindisi San Lorenzo da Brindisi il vero nome è Giulio Cesare Russo il nome di battesimo nacque a Brindisi nel 1559 fu proclamato dottore della chiesa Giovanni XXIII definì le sue opere veri tesori di sapienza il sole è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.44 vediamo il tempo insieme alla grafica della protezione civile delle marche per la giornata di oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo potrebbero esserci occasionali piovaschi o brevi rovesci nel corso del pomeriggio immagino nell'entroterra i venti sono sud occidentali vento moderato lungo la fascia costiera per la giornata di domani venerdì 22 di luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionare in un lieve aumento ancora 20 a regime di brezza anche lungo la costa e poi sabato 23 luglio cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori sui settori interni nel corso del pomeriggio avremo possibili locali rovesci sui settori interni della regione Marche anche vedete limitatamente alla zona dei Sibillini comunque siamo nel sud della regione Marche le giornate di domenica e lunedì potranno essere invece caratterizzate da deboli condizioni di instabilità più spiccate nei settori interni e collinari iniziamo a leggere i giornali cominciamo a sfogliare il Corriere Adriatico la rivoluzione di Ceriscioli il presidente della regione Marche meno ospedali dice il governatore e più servizi il presidente parla ai sindaci dell'area vasta e spezza il fronte della protesta lo fa da Urbino la riforma è sanitaria ma l'innovazione è semantica e tecnologica Ceriscioli si ripresenta si ripresenta ai sindaci dell'area vasta sei mesi dopo le scuse che portò per l'infausto blitz di Natale negli ospedali minori illustra il suo modello organizzativo della sanità e capovolge le condizioni ambientali l'ospedale unico per l'Asu è quello di Urbino che ha una sede anche a Pergola e il sito del nuovo presidio invece di Marche Nord si sceglierà con Google Maps a opporsi restano solamente Sasso Corvaro Cagli e Fossombrone il blitz dei carabinieri stavano preparando la fuga gli autori delle bombe alle chiese sono due ultra stiamo parlando di un fatto accaduto a fermo è stato risolto il giallo la procura dice nessun legame con l'omicidio del nigeriano questa è la prima pagina dove ci sono brevi richiami anche sullo sport il Fano che sorpresa può essere Lega Pro senza la super tassa perché ci sono due squadre che non riescono ad iscriversi quindi possibile è un'ipotesi che possa entrare in Lega Pro senza pagare i 250 mila euro apriamo subito la pagina di Fano del Corriere Adriatico eccola qua Marchegiani l'assessore che ha la delega anche alla cultura dal principe a Noa si cerca la qualità e non la folla ieri il messaggero aveva un po' stroncato il concerto di Francesco De Gregori aveva parlato di un buon concerto ma insomma senza che De Gregori entusiasmasse troppo la folla si cerca però la qualità risponde oggi il vice sindaco e comunque l'assessore alla cultura Marchegiani spiega il dopo De Gregori e l'irripetibilità del violino e la selce che non so quanti di voi se lo ricorderanno però era una manifestazione molto d'elite molto particolare a qualcuno piaceva a tanti invece è rimasta indigesta e ancora quando si nomina questo festival insomma c'è qualcuno che storce il naso spese dimezzate invece grazie al palco che è stato allestito per l'orchestra Rossini e il festival del jazz e poi sotto dalla musica dei giorni nostri o comunque Evergreen visto che De Gregori ha fatto anche Bob Dylan così come il suo repertorio che ormai dura da tantissimi anni Love Party si parla anche di musica anni 70 con Il Lido che torna ai figli dei fiori l'iniziativa degli anni 70 l'anno prossimo porteremo dicono gli organizzatori anche Red Ronny che è il portabandiere della musica degli anni 70 gli alberghi invece abbandonati sono sulla pagina 44 del Corriere Adriatico di questa mattina sono un danno d'immagine pettinelli a cecchini non mi riferivo a quelli che investono per fortuna chi investe ancora per migliorare gli alberghi ce ne sono ce ne sono diversi al pello alle istituzioni più sostegno a chi spende per rinnovare le proprie strutture e poi la buona notizia per i disabili che vogliono salire e che hanno bisogno di prendere il treno alla stazione ferroviaria di Fano la stazione non è più vietata perché parte un nuovo servizio di assistenza per i viaggi che si possono prenotare questa assistenza si può prenotare al telefono basta chiamare 48 ore prima un numero verde oppure un altro numero che è l'199 30 30 60 tutti i numeri che troverete pubblicati sul giornale di questa mattina buone notizie anche per le scuole fanesi c'è un restyling grazie a 500 mila euro che verranno investiti dal comune sono nove gli istituti interessati a questi lavori per esempio in via Ranuzzi sono stati presentati da fanesi e l'assessore Mascarin quindi niente più infiltrazioni o comunque problematiche varie per queste scuole sono nove se non ricordo male nuova elementare di Cucurano Carrara c'è la commissione che valuterà le offerte stadio Mancini dicevamo del Fano sapete andrà quel prossimo anno giocherà la prossima stagione a settembre inizierà il campionato dei professionisti quindi ci sono degli interventi da fare anche allo stadio approvato il progetto esecutivo ci sarà anche una nuova biglietteria e ancora Ave Cesarini è qui la festa parliamo del successo che ha avuto nella nuova versione per i più piccini la rievocazione storica del Fano dei Cesari l'Avis vince la gara delle bighe a sorprese cartaginesi sconfiggono i romani la storia di Maglio Pierboni lo conoscerete sicuramente tutti lo vedete in questa fotografia con Sanchioni ecco Maglio Pierboni l'ho cerchiato adesso con il pennarello giallo una vita per l'alma fatta il cremone a ferita aperta lo storico dottore in Granata dal 1972 elogia Gabellini e cita mister Osvaldo Bagnoli il mio credo dice prima l'uomo e poi l'atleta fondamentale il lavoro con Sanchioni che in questa con il quale è stato ritratto in questa fotografia pubblicata questa mattina dal giornale Val Cesano lo sbarco dell'Adriatic Rhone il Sup diventa senza frontiera marotta un fine settimana di grandi eventi la tradizione trionfa con una rievocazione storica che è la festa o meglio la pesca della tratta quella che si faceva una volta che adesso non si può più fare anche qui un mistero il perché non si possa più fare una cosa del genere ma insomma quella che si pescava da terra dalla spiaggia tirando la rete ecco questa è la pesca della tratta è una rievocazione adesso è solo una rievocazione si può solo rievocare con un permesso straordinario e speciale della Capitaneria è una è una festa che ci sarà nei prossimi giorni della quale parla il Corriere questa mattina il Comune invece a Monteporzio batte cassa per l'Imu la ditta che la riscuoteva è fallita non paga Monteporzio prova a riscuotere anni di arretrati ora servirà il Tribunale intanto il Sindaco Breccia ringrazia i volontari che hanno ripulito il Paese da Senigallia parcheggio allo stadio tanti i sì l'opposizione accetta la proposta è una buona soluzione dice ma la viabilità va ridisegnata favorevole anche il Presidente della Vigor idea che avevo già fatto ma i costi dice il Presidente sono elevati apriamo adesso il resto del Carlino guardate che bella fotografia quella che pubblica il giornale questa mattina ed è tutta per gli studenti del classico Mamiani perché? perché all'interno tra loro c'è anche Elena Elena è una studentessa non vedente che ha letto Euripide in Braille e ha preso il massimo dei voti alla maturità e ha ricevuto giustamente anche il plauso degli insegnanti che hanno detto questo 100 vale doppio e ci credo e allora andiamo a leggere andiamo a vedere la pagina interna dove si parla di questa bella storia Elena studentessa non vedente per lei un 100 che vale doppio cieca da nove anni ha letto in Braille Euripide rispettando la metrica e pensate è una generazione questa fenomenale quest'anno il liceo classico Mamiani di Pesaro il più grande delle marche conta ben 68 diplomati alla maturità con il massimo dei voti di questi 15 hanno avuto la lode in particolare la classe quinta C composta da 24 studenti che ha segnato il record di 11 liceali usciti con 100 quindi su 24 11 sono usciti con 100 davvero bravi e andiamo adesso sulle altre pagine c'è la moda dei Pokémon probabilmente anche voi l'avrete scaricata sul vostro cellulare c'è questa tendenza e allora sulla pagina di Pesaro si parla di questa nuova mania caccia i Pokémon fra i monumenti scaricato il gioco dalla rete si possono inseguire i pupazzetti per la città spopola fra gli adolescenti mentre una nonna sapete la saggezza degli anziani dice non sarebbe meglio una partita a pallone e c'è qualcuno che già va contro fa il bastian contrario e tiene in mano un cartello con scritto zona depokemonizzata dove non sono ammessi i Pokémon ok questa è la la moda quella la moda dell'estate insomma almeno dovrebbe essere così l'altra pagina del resto del carino invece ci riporta ad un fatto accaduto del quale vi abbiamo parlato ampiamente qualche anno fa un fatto accaduto dove una coppia di persone avevano manomesso un'auto per uccidere una donna ebbene volevano uccidere una donna sabotandole l'auto tagliandole i freni per quella vicenda Vincenzo Mancani 23 anni di Calcinelli è stato condannato ieri dal collegio dei giudici presieduto da Stefano Marinelli ad un totale di 8 anni e 4 mesi 7 anni per il tentato omicidio e un anno e 4 mesi per una ricettazione i militari avevano scoperto che il 23enne voleva far fuori anche la nonna e questa è la notizia che troverete sulla pagina di Pesaro di Fano e Valle del Cesano mentre sulla pagina di Fano niente più secchi al girotondo il girotondo è una scuola il nome di una scuola il comune investe mezzo milione di euro nell'edilizia scolastica infiltrazione alla materna del vallato al via i lavori lavori che coinvolgeranno come abbiamo visto anche altri istituti istituti scolastici poi la notizia dalla pagina di Fano sulla vicenda la storia di quella coppia che vive in auto all'interno del parcheggio dell'ex caserma Paolini e oggi risponde l'assessore Marina Barnesi su questa storia difficile aiutare chi non lo vuole dice oggi l'assessore ma mancano case ammette mancano case per l'accoglienza dopo l'appello della famiglia che vive in auto l'assessore risponde il dramma i cesaroni chiedono di avere un'abitazione dove vivere normalmente questa è la notizia sulla pagina di Fano non c'è altro per cui possiamo fermarci qui la rassegna torna domani mattina alle 7 e mezzo questa sera invece il telegiornale alle 20 e 30 con tutti i fatti del giorno grazie per averci seguito buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti